A Pineto sono circa 400 i rifugiati ucraini che hanno trovato accoglienza e nuove opportunità grazie al progetto Accoglienza Ucraini Arci Pineto, frutto della collaborazione tra il Comune, l'Arci e la Protezione Civile della Regione Abruzzo. L'iniziativa è nata con l'obiettivo di garantire continuità di supporto ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra, offrendo loro un rifugio sicuro e un percorso di integrazione sul territorio. Persone che dopo questi anni si sono anche integrate, hanno trovato modo di lavorare, chiaramente non tutte perché su 400, quasi 400 ci sono target molto diversi, quindi persone anziane, persone che hanno bisogno di assistenza, però anche chi finalmente è riuscito a integrarsi a pieno nella provincia di Teramo e anche nel territorio comunale di Pineto. Ma negli ultimi tempi si è accesa la polemica dei ritardi nei pagamenti dei contributi, una tematica su cui l'Arci ha annunciato che la prossima settimana verranno erogati in un'unica soluzione tutti i mesi arretrati di Pocket Money, il vitto ai quasi 400 ospiti del progetto di Pineto. La bella notizia che adesso possiamo dare, avendo lavorato molto in silenzio, è quello che riusciremo a fare un'unica erogazione con tutte le mensilità che mancano, che sono ormai sei mensilità, e questo è un lavoro che è stato possibile grazie alla disponibilità da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e anche delle risorse che l'Arci Nazionale stessa è stata in grado di mettere in campo. Altra questione che sta preoccupando gli ospiti ucraini presenti a Pineto è la voce di un possibile trasferimento. Questo è un tema che non sta da nessuna parte, perché appunto questa è stata una città accogliente e questo progetto è un progetto di accoglienza e integrazione, quindi è chiaro che i numeri sono importanti, però non è all'ordine del giorno e dispiace vedere probabilmente che qualcuno su questi argomenti prova a cercare una visibilità, però non c'è alcun tipo di spostamento in programma.